Noi l'abbiamo già detto, se il referendum dovesse andare male, noi non continueremo il nostro progetto politico, quindi saranno altri. Ma se Renzi perde e se ne va e lascia la politica, lei lascia la politica o no? Eh sì, perché ovviamente è un lavoro che abbiamo fatto insieme e quindi ci assumiamo insieme le responsabilità di un progetto politico nel quale abbiamo creduto e lavorato per tanto tempo. Mi sembra una breve risposta, una buona risposta. Proporrò quale sottotecretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri l'Onorevole Maria Elena Boschi.